Ah, ma guarda un po', un altro bel capitolo di Yokey Watch 3 Randomizer, inizia con Link, eh, però no, mi dispiace amico mio, oggi dobbiamo fare la storia di Luna, aveva le missioni chiave, quindi una cosa veloce. Oh no, arriva il circo in città, eh, mi dispiace amico mio. Eh, amica mia, però, dobbiamo andare a fare qualche slottata prima, eh. Un po', attenzione. Ma come, un altro Fabio, primo premio. Allora, questa bambina, cosa vuole? È una ragazzina che è neguai, andiamo. Allora, nuova, perfetto. Così, le bot, senza senso. Eccoci qua con la bambina, allora, bambina, che cosa ti serve? Milky non è tornato a casa. Chi è, Milky? Il tuo gatto. Ok, indossava un fiocchetto, va bene. Ad Aglius piacciono i gatti. Brava, ragazzo. Il gattino dovrebbe essere a parco triangolo, ma non è vero, non c'è. Farfavigo. Farfanima. Hai visto un gatto? Dove, dove, dove? Arriva il film di Campoferito. Bono. Attenzione, però. Ehi. Quello è androide Yamada? Ehi. Sì, dimmelo, dimmi di sì, dimmi di sì. Ah, certo, è lui. Aglius, sai che non hai mai visto un gatto che sta in piedi? Poi questo è Merican, comunque sia, eh. È innamorato! No, no, è innamorato di Theusapion. Diventiamo amici e personalizzami. Ma sarà Originean? Perché Originean non è importante ai fini della storia. Eh già, a quanto pare. Granchiogat. Che nome inutile. Poteva chiamarsi Maestronian? Maestrogat? Gattaestro? No! Granchiogat. Perché Granchiogat? Vabbè, non ci sono scomodati a modificare anche questo. Sì, ma la bambina che diciamo? Ah, ecco, il gatto è arrivato. Ciao. Oddio quanti. Ha un harem! Originean ha un harem! Originean ha un harem! L'havitaliano, che succede? Che mi dai? Fesi Death Number Fifteen! È un nuovo giorno, quindi sicuramente avremo ricevuto una marea di incarichi dopo la sessione di volantinaggio. Li abbiamo appesi in punti strategici della città di Valdor. Chissà quante richieste abbiamo. Nessuno. Attenzione, è arrivato l'incarico! Finalmente! Abbiamo creato anche un blog, quindi gli incarichi ora mi saranno a piovere, vero? Internet è il mezzo di ricerca primario per... Nessun mistero è un mistero per noi. Ma che è Conan? Eh, però hanno chiamato, eh! Abbiamo anche una linea telefonica, a proposito. Ah, ma abbiamo le missioni chiave per davvero ora. Prima erano solo per prendere Originean. Allora, signor ristoratore, mi dica com'è che le sue consegne scompaiono sempre? Quindi questo tizio consegna gli spaghetti, ma ogni volta che li consegna scompaiono. È grave. Andiamo da animazione, certo. Quale modo migliore per passare una giornata di pioggia se non dentro un negozio? Lei commessa ne sa qualcosa di un certo tipo di spaghetti che scompaiono? E l'ha ordinati, è per forza che lo sa. Sono arrivati con mezz'ora di ritardo e senza spaghetti. Wow! C'hanno gli ok nelle vicinanze, vediamo un po'. Ma certo, quale altro yokai se no? Ah, nonno, hai rubato gli spaghetti? Beh, in effetti sì. Ah, beh, lo dici anche? Ah, scodella spaghetti vuota, ci dà pure quello che gli è rimasto, mamma mia. Abbiamo scoperto che è stato... Qualcuno. Chi era migliore vicino a Armiaonia? Fiona. Attenzione... Ah, ma quindi lui è andato a vedere vicino a Armiaonia, per questo era arrivato in ritardo. Ma gli spaghetti che c'entrano, scusa? Mettiamo anche che c'era lo spettacolo di vicino a Armiaonia. Tempo che vai e torni sono dieci minuti. Quando ti sarai perso? Mezza canzone? Tanto fanno mezz'ora di apertura e poi cantano due canzoni e se ne vanno. Cioè... I prossimi incarichi sul Monte Selvoscura. Dobbiamo parlare con Chikalama. Ehi, Chikalama, che succede? Alcuni yokai ti danno fastidio, il tuo assassino. Cosa? Ma non... Ah, perché era una chicala prima, certo. È stato fatto fuori. Ma non è che sei morto semplicemente? Tre bambini, poverino! Addirittura erano compagni di classe di Alius. Interrogli da un po' questi tre sospettati. Ehi, tu. Chi sei, Eduardo? So che hai maltrattato una chicala. Dov'è? Allora? Non le hai catturate perché non ti interessano? Va bene, voglio crederti, Joe. Ma guardati le spalle perché sono sempre lì dietro. Pronto a coglierti con le mani nel sacco. Ehi, tu! No, tu non ti chiami Andrea, invece. Però non ha catturato Chicale, solo cervi volanti. E allora è stato Eduardo, per forza. Per forza! Eduardo, confessa, so che sei stato tu. Non ti piacciono le Chicale e fanno troppo rumore? Allora, chi l'ha ammazzato sta Chicala? Se vuoi sapere? Però che brutta vita le Chicale. Dopo che aspettano per anni sottoterra, emergono, vivono una mesata e poi... Morte. Fu solo un mese dalla prima volta che vedi la luce del giorno. È morto e basta. Come ultima missione Chicale dobbiamo fare una gara in bici. Sei tu il ciclista? Ma che fa, le ruba? E corsa sia! Ci vorrebbe un po' di Eurobit, ma è tutto quanto copyrightato. Quindi non ne sono molto sicuro. Vabbè, in qualche modo farò, dai. A partita che vuoi sapere la motostrata, ma non mi hanno recuperato la motostrata. Vabbè, via ilino da controllo. O Dio, chi pensava che tu sia? Vi fai la motostrata. Vabbè, via il po' di YOLGA! No, non vabbè, è una motostrata. Queste faktare si è una motostrada. Non è vero, rubata, rubata, rubata Vinto! Oh yeah! Ah ah! Meno di un minuto! Così si fa amici miei Ma era azzardo! Allora fan del ciclismo A posto così? Quindi ci regala anche la bici Non solo possiamo prenderla da mia malletta ma ci regala anche lui una bici Bici panna, bella Wow! E' sfera grande! Bona! Ah possiamo andare avanti con la storia ora E che sarà mai? Il nostro fratello che si rincorre con un suo amichetto Yeah scivolo! Ah non gli fa tranciare le gambe mentre scende? Io facevo con i miei amici, ci divertiamo come matti Tornavamo a casa senza caviglie Però ci si divertiva Oh Danny vuole giocare ancora Ma è tardi Danny! Ero di andare di fare cena fra un po' Cialala! A quanto pare Danny ancora non è rientrato a casa Che sia successo qualcosa Ma che cosa succede? Devo continuare la storia con Long? No! Ma la storia non finisce qui Sì infatti continuiamo a lunedì E questo è un quarto